benvenuti che bimbo di merda addominali addominali via Aspetta a parlare benvenuti in final fantasy 15 mi sta piacendo un sacco Basta parlarne voglio fare le taglie infatti io non ero convinto di fare un video su final fantasy perché è praticamente impossibile fare un video senza spoilerare qualcosa ma mi dimentico sempre delle secondarie e qua ci sono delle belle secondarie come di nuovo le taglie e io l'ho fatta una sola mi sono divertito però qua si sta facendo veramente buio sai cosa mi sa che vado a salire di livello quindi cerchiamo un un accampamento vicino eccolo qua sono veramente all'inizio del gioco e ho fatto giusto 6 o 7 missioni principali e un paio di secondarie andrei lì a piedi io non so se ce l'avete se volete comprarlo a natale ma sto gioco di trama non ne ho idea di trama Praticamente il riassunto è di domenica niente di serio Per il resto è di un immersione pazzesca adesso vi faccio vedere per salire di livello appunto vi dicevo devi andare a campeggiare letteralmente in uno dei punti di campeggio tipo questo e campeggiando c'è il signor Ignis che ci può cucinare qualcosa io ho sbloccato gli spiedini alla cacciatora ma purtroppo ci manca o carne di anac che non ho qui possiamo andare o dei polpette di riso gnammi gnammi che ci danno 50 punti vita massimi per un po di tempo oppure direttamente la bruschetta all'uovo che ci dà capacità offensiva più 30 e vada di bruschetta e tra l'altro io ho detto sarà un bel gioco un ottimo gioco me la farà vedere la bruschetta o skipperà in automatico BAM me la fa vedere 10 su 10 ecco questo parlando di immersione nel gioco è una cosa spettacolare Il nostro prompto fa le fotografie durante la l'avventura durante la giornata anzi sono le fotografie del giorno e non sono foto Prefatte ma sono proprio foto di cose che sono realmente successe nel gioco e ne puoi salvare fino a 150 probabilmente poi ti farà un mega album alla fine del gioco è tipo il viaggio dei quattro amici mascotte cosa hai visto cosa hai sognato padre pio a ignis mi ha chiesto se domani mattina lo aiuto a preparare la colazione ok che è una missione questa e niente perdonatemi io volevo fare le taglie invece oggi si cucina la colazione mescola bene con L senza che la zuppa si bruci cosa ok o quanto veloce devo girare sto facendo giusto è a posto andrebbe lasciato addensare ancora un po come no certo missione compiuta buongiorno La mattina la vita ti sorride è una bella frase hai ottenuto venti punti abilità Cosa ho detto prima dell'immersività di questo gioco Intanto vado a chiapparmi il l'elemento fuoco che si prende Assimilando da delle pietre del terreno torniamo al ristorante che mi devo far prendere la taglia Porca troia che spavento Ho fatto casino ho buttato il fuoco in mezzo ho fatto un casino colpa mia scusatemi colpa mia Preso Parato giusto in tempo e l'ho shottato cazzo smilodonte mi spiace sono stato io a fare questo e adesso ho finito le palle di fuoco Perché mi serve un'ampolla vuota che io quasi quasi comprerei le venderanno Allora parte il fatto che possiamo mangiare qualche piatto che ci potenzia lui Che però costano veramente un'eternità di soldi c'è il chili con carne e la Giambalaia che 700 guil Mannaggia la pupazza all'inizio sono un po tantini e per una bel chili con carne che 50 punti vita massimi e 20 di capacità Offensiva ma guarda che buono mi viene una fama incredibile Ignis ha una nuova ricetta a ecco come si imparano le ricette giustamente prendendo ammazza ma ha imparato la ricetta soltanto guardando il piatto è incredibile Incredibile parassiti della prateria Lontano mi insegnano non me li ah eccoli lì non sono neanche tanto lontani Ovviamente ovviamente vi faccio vedere anche l'abilità degli altri vediamo perforazione si sposta la telecamera e La fa vedere da lui io posso attaccare anche Insieme è un casino da spiegare un casino è morto è morto ok a quindi me lo devo pure cercare Ah no me li segna ammazza che è monster hunter eccoli adesso ho nemici che non ho mai visto attacca il nemico alle spalle con una giramento ma si ma si Ancora tutorial mi fa fare a che male mi sa che le armi che ho equipaggiato non vanno bene sai sai che succheremo qui Perché non ho le armi equipaggiate forse però posso equipaggiarle o semplicemente sono molto 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 resistenti Ma dove cazzo l'ha tirata la palla di fuoco quello lì ma sei un coglione sono Molto resistenti dove andare via un'altra abilità fai falciata sorgente Un fighissimo e attacco anch'io tiè Gli ho fatto cavalluccio visto bene sembrano tanto confuso confuso confusione non so parlare perché sto combattendo Sembrano tanto confusionari i combattimenti ma in realtà se Se sei abbastanza concentrato riesce a capire tutto quello che sta succedendo mi nascondo mi nascondo sta per lanciare un'altra palla di fuoco grazie a dio L'hanno notato per recuperare il mana tra virgolette basta nascondersi Però non portatemi nemici se mi sto nascondendo porca troia Dai ok caccia riuscita mamma mia che fatica sono in una boy band sono in una boy band caccia terminata o 980 guillo un gran elisir o grazie sono tre smilodonti albini ok Io acchiappo intanto vi faccio vedere la regalia la macchina con le icone dei personaggi come se fosse un vecchio final fantasy Piango proviamo ad andarci macchina sono circa 800 metri non è tantissimo però magari Potendo guidare libero posso guidare libero direttamente a gta all'improvviso vedi guida manuale non c'è come mai E niente non posso andare dove voglio vedi mi mi segna un chilometro quando in realtà io a metà strada devo scendere quindi magari premendo x Lì vicino posso posso scendere o si si può meno male si può scendere potevi metterla un po più laterale che sta in mezzo alle balle Però va beh e infatti sono smilodonti bianchi anzi prima se io riesco a mirare la vediamo Ok e poi lo prendo alla sprovvista 3 2 1 Preso aia mi sta mangiando Premi mi stanno facendo malissimo mazza sono un livello in più devo andare via devo andare via forse posso appoggiarmi qua intanto voi Fate le falciate sorgenti fate roba non posso proteggermi qui tocca lottare con metà vita Uh schivato Preso ok Porca troia che fatica è mi hanno sfondato mi sa che per recuperare la vita non devo usare le pozioni le pozioni servono per la vita che ho Quella che ho perso è perché sono caduto un paio di volte in combattimento tanto mi prendo dei materiali grazie mille No non saltare devi raccogliere ok la macchina è bellina per quello che rappresenta però fa veramente cagare disegnata così Boom caccia terminata divoratori tra la sabbia 1500 guile e una banda al di ferro ottimo e non mi si sta recuperando la vita Ah no pian piano si sta recuperando guarda 403 404 ok ok devo solo far passare un po' di tempo Mi piacerebbe cambiare vestito ma non ho vestiti belli Abbigliamento leggero è uguale ma leggero Completo casual direttamente da watchdogs 2 mamma mia E abbigliamento casual sono benji di holly e benji provo ad andare a dormire proviamo questa roulotte costa 30 guile e mi dà 1,2 per cento in più di esperienza Mia mamma mia che turio vedi ci sono fotografie che sembra non vogliano dire nulla ma in realtà sono presi in mezzo ai combattimenti appunto Guarda che casino questa è bella questa la salvo sicuramente e l'alba di un nuovo giorno mi ha recuperato tutti i punti vita Perfetto grazie mille per aver seguito questo mini video su final fantasy 15 cosa fa cosa sta facendo si spulcia Grazie mille e ci vediamo ad un prossimo video Porca non posso rubare altre auto al gioco di merda disinstall Perfetto grazie mille e ci vediamo ad un prossimo video